Vero è che nella discussione di questo atto noi, come lei ha giustamente ricordato, chiediamo con questa mozione la posizione del Governo italiano rispetto al patto di stabilità e crescita. Chiediamo la posizione e speriamo che questo Parlamento faccia finalmente chiarezza su quello che è l'orientamento della maggioranza e del Governo italiano, perché noi fondamentalmente non l'abbiamo capito. Noi abbiamo capito che ci doveva essere un Governo che finalmente andava in Europa, secondo questi programmi sovranisti e patriottici, a ribaltare i tavoli dell'Unione Europea per fare finalmente gli interessi degli italiani. Abbiamo visto il Ministro Giorgetti sottoscrivere il patto di stabilità e crescita, ritenendo l'accordo soddisfacente e abbiamo sentito la Presidente del Consiglio e il Sottosegretario Fazzolari dire che l'Italia avrà 35 miliardi in più di agibilità, di manovra grazie alla firma di questo patto di stabilità e poi dopo vediamo che i partiti di maggioranza in Europa si astengono su questo patto di stabilità. Quindi onestamente se da una parte è soddisfacente, se dall'altra abbiamo ottenuto così tanto non si capisce perché i partiti di maggioranza poi si astengono rispetto alla ratifica di questo documento. Noi come Movimento 5 Stelle la posizione l'abbiamo ben chiara perché siamo gli unici che abbiamo votato contro a questo patto e quindi speriamo che questa discussione, questa mozione finalmente faccia luce su quella che è la posizione del Governo italiano su un documento tanto importante per le manovre e quindi per il funzionamento del nostro Stato di qui ai prossimi anni. Sentiremo e siamo molto curiosi di capire tutto questo. Vorremmo però un attimo in questa discussione generale fare luce su quella che è l'Europa e quella che è la situazione dell'Europa e in questo momento la situazione economica finanziaria di come va e di come sta andando l'Europa e partire da questi elementi per far capire perché il Movimento 5 Stelle è contrario a questo patto di stabilità perché riteniamo che quello che sta accadendo in Europa e quello che accade in Europa sia totalmente scollegato da quello che è stata poi la redazione e la firma di questo patto, come se viaggiassimo davvero su due mondi paralleli, per non dire opposti. Allora, noi abbiamo firmato un patto in cui siamo già certi sostanzialmente che undici Paesi saranno sanzionati perché non rispetteranno i vincoli di bilancio e del deficit. Questo già lo sappiamo. L'Italia ovviamente è fra questi, ma in che Europa siamo? In un'Europa che parla appunto di stabilità e di crescita, aggiunge sempre la parola crescita, la parola stabilità, due sostantivi che hanno accezioni sicuramente positive perché chi è che non vuole vivere in un contesto stabile e in un contesto di crescita. Però, se andiamo a vedere quello che l'Europa ha prodotto e lo stato di fatto, lo stato dell'arte dell'Europa in questo momento, vediamo un Paese come l'Italia dove il 5% dei più ricchi detiene il 46% delle ricchezze di questo Paese. Voi direte, ma è un'anomalia l'Italia? E allora andiamo in Germania. Andiamo in Germania dove il 5% dei più ricchi detengono il 50% delle ricchezze di quel Paese. Quindi questo è il dato, secondo noi, da cui dovremmo partire, ovvero la metà della ricchezza di due Paesi fondamentali, importanti, due dei Paesi principali dell'Unione Europea come il nostro, e prendiamo come riferimento la Germania, la metà delle ricchezze sono in mano al 4-5% dei soggetti che abitano questo Paese. Andiamo a vedere anche le entrate, come si distribuisce la fiscalità in Europa. Bene, in Italia ogni anno mancano 10 miliardi l'anno perché dei soggetti italiani preferiscono pagare le tasse, e ci credo, in Olanda, in Lussemburgo e in Irlanda. Quindi non parliamo di sperdute isolette del Pacifico o dei Caraibi. Parliamo di tre Paesi che hanno la nostra moneta, che hanno le nostre stesse regole, che siedono ai tavoli dove queste regole vengono sottoscritte, firmate, dove si impongono dei vincoli, e andiamo a scoprire che l'Olanda ha il 30% del proprio gettito perché lo sottrae, appunto, in questa maniera ad altri Paesi. Il Lussemburgo è il 54% e l'Irlanda il 65% del proprio gettito lo deve a questa politica fiscale. Allora, io credo sia impensabile che nel momento in cui tu stabilisci delle regole che valgono per tutti, stabilisci dei principi che debbano sottoscrivere i Paesi che fanno parte di una comunità economica, politica, commerciale, sociale, ci siano delle regole condivise, che non debba esistere un gruppo di Paesi che sono di fatto dei paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, che poi magari, quando si debbono approvare le cose, fanno muro e dicono agli altri che sono dei Paesi spendaccioni, che non possono sottostare, che devono sottostare a determinate regole. Io credo che questo dovesse essere uno dei punti di partenza dai quali muoversi e uno dei punti di partenza dovesse essere quella che è la realtà di questo continente, la realtà economica di questo continente, ovvero una situazione, una condotta che purtroppo non si sottolinea mai e non si percepisce mai, ovvero la totale finanziarizzazione della nostra economia. E io quando leggo ricette di ex Presidenti del Consiglio di questo Paese che vanno a stimolare ancora di più questo tipo di finanziarizzazione, a me vengono, mi viene, insomma, mi si accappona la pelle, perché oggi, oggi, e anche questo parliamo a volte di temi che riguardano pochi spiccioli, pochi milioni di euro e non vediamo invece qual è la realtà dei fatti. In questo continente ci sono quattro fondi, quattro fondi finanziari, BlackRock, Vanguard, JP Morgan e Fidelity, che gestiscono mille miliardi di euro di risparmi europei, li gestiscono mille miliardi di euro e come li gestiscono? Il 70% di questi fondi vengono investiti nella Borsa di New York, cioè quindi prendono i soldi sostanzialmente dei risparmi europei di tutta la comunità europea e gli viene permesso, tramite dei giochi ovviamente finanziari che spesso e volentieri sono delle vere e proprie speculazioni, di andare ad arricchire la Borsa di New York. Questo viene fatto in Europa, questo accade in Europa tutti i giorni e non è accettabile che quando si debbano disegnare le nuove regole non si affrontino questi temi che poi sono la sostanza di come vengono fatte le politiche industriali e finanziarie e gli asset strategici di questo continente e del nostro Paese e non si vada ad indagare su questo. Andiamo poi a quella che è la politica della BCE, tanto discussa in questi anni. La politica della BCE, se vediamo anche qui qualche dato senza entrare nel merito, però le banche hanno ridotto di oltre 44 miliardi di euro le erogazioni del credito. In Italia hanno chiuso 800 filiali, hanno fatto per profitti per oltre 30 miliardi che la BCE cosa fa? Remunera col 4%. E cosa fa? Garantisce dei dividendi davvero stellari a tutti gli azionisti delle banche. Quindi si è entrati in una spirale paradossale per cui si remunera le banche, perché non eroghino credito? Perché non immettano liquidità? Perché bisogna bloccare l'inflazione, quindi la cura del paziente funziona, peccato che il paziente è morto. Perché se non si continua ad erogare credito, perché non si continua a erogare liquidità, perché bisogna mantenere bassa l'inflazione, cosa aspettiamo? Aspettiamo che ci sia un crollo dei prezzi, perché le persone, gli italiani, non ce la fanno più a pagare, non ce la fanno più ad aprire un'impresa, però intanto i prezzi li manteniamo sotto controllo. E ci sono già tantissimi dati che spiegano come e perché questo sta avvenendo. Noi abbiamo in Italia la più bassa percentuale propensione al risparmio dal 1995. Gli italiani nel 2023 hanno speso 74 miliardi di euro in più per comprare di meno. Questo sta avvenendo e se non è questo un dato spia di una situazione devastante e disastrosa, allora io non so quale possa essere. E allora cosa ci dice? In cosa ci siamo impegnati come Paese? Perché poi purtroppo gli impegni che noi andiamo a sottoscrivere oggi non li vediamo ora, li vedremo tra qualche mese, li vedremo tra qualche anno e capiremo poi cosa abbiamo firmato alla fine del 2023 e cosa abbiamo approvato nel 2024. Perché questa balla colossale, perché davvero basta uno studente al primo mese di economia per capire che non è assolutamente vero che noi abbiamo 35 miliardi di euro in più di manovra fiscale. Andiamo a vedere i dati che invece dobbiamo rispondere e a cui invece abbiamo impegnato l'intero sistema Paese. Noi abbiamo un deficit primario strutturale del 0,9% del PIL. Noi ci siamo impegnati affinché in sette anni si debba raggiungere un avanzo del 3,3% del PIL. Quindi dallo 0,9 al 3,3% del PIL sono 4,2% di delta, come si dice, che in soldi veri fa 80 miliardi di euro all'anno. Senza contare che dovremo anche rispettare la discesa dell'1% del rapporto debito PIL, perché a quel punto i miliardi da 80 diventano 100. Questo cosa significa? Significa che ogni anno noi, ma non è che non abbiamo 35 miliardi di euro in più, abbiamo 13-14 miliardi di euro in meno rispetto a un Paese che già oggi, già oggi, con l'aumento dell'inflazione sostanzialmente taglia 10 miliardi di euro la sanità, io voglio capire questi soldi dove si troveranno, dove diavolo si troveranno questi soldi? E vedete, piantatela anche con questa, sempre il ricorso quando la maggioranza non sa cosa dire, parla del super bonus. Parla del super bonus come se per colpa del super bonus non si può fare niente. Allora, il governo Conte stanzia 35 miliardi per il super bonus nel agosto, i decreti attuativi del super bonus sono dell'agosto del 2020. Il governo del Presidente Conte casca effettivamente a gennaio del 2021, di fatto già a dicembre del 2020 il governo Conte, si sa, non aveva più agibilità politica. Quindi il governo Conte ha gestito il super bonus per quattro mesi, quattro mesi stanziando 35 miliardi. Il super bonus poi dopo è arrivato al Ministero dello Sviluppo Economico un signore che si chiama Giancarlo Giorgetti dal febbraio del 2021. Siamo a maggio del 2024, quindi sono tre anni che il Ministro Giorgetti ha, e come se ha, una grossa responsabilità su quelle che sono state le misure sul super bonus. E tutta l'arco parlamentare ha sempre, sempre approvato tutto quello che riguardava il super bonus. E anzi, abbiamo negli anni visto provvedimenti da parte atti, ordini del giorno, emendamenti da parte di tutta la maggioranza dell'ora del governo Draghi, ma anche da parte dell'opposizione di Fratelli d'Italia, misure che dovevano estendere il super bonus. Dunque, noi abbiamo fatto questa misura e l'abbiamo, diciamo, regolamentata con 35 miliardi di Euro. Dopo è accaduto che si è gestita in maniera completamente diversa tutta questa misura. E non può essere sempre la scusa con la quale giustificate la vostra inerzia, perché, vedete, se le misure che il Governo si appresta ad attuare per iniziare a rientrare di questi 13-14 miliardi l'anno sono la svendita e la privatizzazione di nostri asset primari e fondamentali come l'ENI, allora non andiamo da nessuna parte, perché noi abbiamo formalizzato la cessione del 2,8% di ENI per un introito di 1,4 miliardi. Ne mancano ancora 12 per arrivare ai 14 miliardi annui. Bene, questi 1,4 miliardi annui, fra qualche anno, visti i dividendi che ENI eroga ai propri azionisti, saranno presto superati da quanto lo Stato non ha incassato per questa vendita. Cioè vendiamo oggi a un prezzo una roba che fra qualche anno ci faceva incassare e ci faceva guadagnare molto di più. E perché la vendiamo? Sempre per arrivare a, probabilmente, a secondare e a, diciamo, a quietare quei grandi fondi di speculazione a cui l'Italia dice, state tranquilli, l'Italia è un Paese da non attaccare, perché noi siamo a vostra disposizione. Questa è l'unica ragione, perché non esiste una ragione logico, economica, finanziaria per arrivare a fare un'operazione del genere. E quindi cosa andremo a svendere poi? Cosa andremo a tagliare? Perché, vedete, in questo Paese si è purtroppo diffusa da anni una specie di dicotomia, come se chi è a favore di una spesa sociale, come chi è a favore di una tutela dei più fragili, dei più deboli, dei salari, bene, queste parti politiche vengono additate come coloro le quali non sono favorevoli a una crescita di produttività del Paese. Questa è una menzogna totale, è una menzogna totale, perché siamo tutti coscienti che ci debba essere una crescita di produttività del nostro Paese. Ma chi è che non vorrebbe una crescita di produttività del Paese? Chi è che non vorrebbe mettere in campo delle misure per far crescere la produttività di questo Paese? Il problema è chi cresce, il problema è chi è che ci va a guadagnare, perché noi riteniamo che una crescita e una produttività del Paese debba ovviamente riflettersi innanzitutto sull'aumento e sulla crescita dei salari, anche con una normativa che vada a garantire un salario minimo. Invece, se la crescita deve essere solo a vantaggio di pochi che hanno già e che non hanno bisogno di crescere, è allora un altro discorso. Questo è il punto fondamentale, perché noi in questo atto firmato in Europa vediamo non un patto di stabilità, noi vediamo un irrigidimento totale e dei vincoli fuori dalla storia e fuori dal mondo che andranno a penalizzare le classi meno abbienti di questa società, perché i tagli si riverseranno, gioco forza inevitabilmente, sulle fasce più povere della popolazione. Non vediamo nulla che stimoli la crescita, perché vorremmo anche sentire e vedere delle misure che ci dicono. Noi abbiamo una teoria, una teoria quella che negli anni Ottanta era imperante, noi taglia la spesa sociale, grande defiscalizzazione, crescita di determinate parti della società, perché noi riteniamo che la società in questo modo aumenti e progredisca. È una teoria sulla quale noi non siamo d'accordo, ma almeno ha una coerenza, ha una visione, ha una, diciamo, logicità. Noi su questo non vediamo nulla di nulla. Vediamo dei piccoli interventi raffazzonati, vediamo delle svendite a dei grandi fondi finanziari e non vediamo nulla, nulla che aumenti o che possa aumentare la competitività delle nostre imprese. Quindi davvero riteniamo con forza di dare la nostra contrarietà a questo patto di stabilità e il grosso, grosso rammarico è che non pensavamo che si potesse così rapidamente tornare indietro da quella che è stata la stagione della pandemia dal punto di vista della solidarietà delle politiche europee. Noi non pensavamo, sapevamo che chiaramente poteva essere una fase, ma poteva essere un inizio davvero di un'Unione europea solidale, un'Unione europea che mirasse alla crescita e alla tutela dei più deboli, all'innovazione, alla transizione ecologica, ma non che dopo qualche anno neanche si tornasse immediatamente indietro e si facesse una retromarcia colossale. E davvero il vedere che la pandemia non ha insegnato nulla e si è tornati indietro anni luce è una cosa che quando si parla di Europa, e lo si parla molto spesso retoricamente, ci fa capire che un'Unione europea vera, un'Unione europea dei diritti, un'Unione europea che vada a tutelare chi rimane indietro, i dati li ho citati poco fa, e sono molti, e sono la stragrande maggioranza, è un'Unione europea al di là da venire. E il fatto che l'Unione europea, quando si parla di Unione europea, in questi ultimi anni, si parli in questi ultimi anni e soprattutto in questi ultimi mesi, l'unica cosa di cui si parla è di una difesa comune, di investimenti militari e quant'altro, è davvero inquietante, perché noi riteniamo che siamo davvero a un momento in cui si debba scegliere, in un momento in cui si debba vedere che la direzione, purtroppo, di questo continente è completamente assoggettata agli interessi di oltreoceano ed è completamente assoggettata agli interessi dell'industria militare. Noi siamo per un'Unione europea che abbia una difesa comune, siamo per un'Unione europea che abbia un commissario alla difesa, ma commissario alla difesa non significa un commissario alla guerra. Qua sembra che tutta l'architettura sia finalizzata ad avere un commissario alla guerra e a un soddisfacimento degli appetiti delle grandi industrie, delle imprese belliche e militari. Grazie, Presidente.